Simone? Senti, è un po' che ti volevo chiedere, ma secondo te se uno in passato ha fatto cose un po' brutte, insomma, non sarebbe meglio dirselo, capisci? Sì, infatti te lo volevo proprio dire, alla mia ex moglie, la dentista, ho fatto una cosa orrenda. L'hai tradita? Peggio. La picchiavi, la maltrattata, l'hai amazzata? Accertamento fiscale, 84 mila euro di multa. Ah. È colpa sua, curava le carie nero, è che io ci ho provato a chiudere un occhio, però è più forte di me. C'ho troppo questo senso del dovere che... Quindi ti prego, non farmi mai scegliere tra te e la legge. No, no. E tu? Che? Hai qualche cadavere nascosto, tu? Eh. Cadavere? Perché poi i cadavere? I cadavere? Dove te li metti? Poi tra l'altro anche volendo i cadavere. Eh? No, eh, dico i cadavere, ma figurati. Ci mancherebbe. Sai, dicono che ci sia una cura per la nostra ferita. Fare un bambino e provare ad essere i genitori migliori dei nostri. Un bambino? Un bambino, sì. Hai presente? Sono come gli adulti, però un po' più piccoli. Che scemo. Eh, ma poi funziona sta cosa? Che ne so. A me l'ha detto del tostapane. Sto tostapane, mamma.